Mi chiamo Giorgia e sono di Cosenza. Avevano detto che avevo fatto una pozione magica a mio marito, ma in realtà mia cognata e mia suocera hanno sequestrato mio marito. E questa è la mia storia. Accominciamo. Conosciuto mio marito a 17 anni, lui tre anni più grande di me. La sua famiglia aveva un'azienda agricola. Ci siamo voluti bene, tanto. Purtroppo avevamo solo un nemico in casa nostra, la sua famiglia, ma più di tutti sua madre e sua sorella, che purtroppo non era sposata e che pretendeva di avere un rapporto molto attaccato al fratello, anche dopo sposati. Noi abbiamo due figli grandi. Vedete, ad oggigiorno non ci mancherebbe nulla per stare bene. E invece adesso non siamo più insieme, per colpa della famiglia. Per anni ho cercato di lottare, di combattere. Inizialmente loro volevano che io andassi a vivere insieme a loro, da sposata. Ovviamente mi rifiutai. Carpendo già le persone indiscrete che erano, manipolatrici, ma soprattutto volevano sempre far sembrare le altre persone come se non contassero nulla, come se loro fossero padroni del mondo, capì che più ne stava la lontana e meglio vivevo. Mio marito purtroppo, ovviamente per questa situazione, incominciò a non stare bene. Anche perché la famiglia cercava sempre di prendergli soldi. Per colpa loro lui ha dovuto rinunciare sempre a tante proposte di lavoro che magari ci avrebbe fatto stare bene per aiutare la sua famiglia. E loro ovviamente dicevano che tutta questa situazione era colpa mia. Ovviamente mio marito risentì di tutto questo e incominciò a deprimersi. Lo portai da un urologo e incominciò a prendere varie medicine che lo fecero stare molto meglio. Purtroppo però la famiglia continuava a dire che lui non aveva bisogno di queste medicine, che lui si era messo con una donna che gli faceva le pozioni magiche, che faceva di tutto per farlo stare male. Così mio marito smise di prendere le pillole. Incominciò a peggiorare. Mi dava ciò che guadagnava dicendo che non era più in grado di gestirlo. Sono stata sempre una brava moglie e una brava mamma. Ho combattuto e Dio sa quanto ho combattuto. Ma a un certo punto diventai stanca. Non ce la facevo più. Ero stremata. E così mi presi un momento per me, mi allontanai. Avevo bisogno di scuotermi perché mi stavo deprimendo anch'io. La mia passione è stata sempre quella di cantare. E così andavo con i miei figli e le mie amiche a cantare. Pubblicavo dei post sui social, come tutti. Ma sua sorella prendeva le mie foto dicendo che io ero una poco di buono. Perché invece di stare a casa con mio marito, uscivo con i miei figli e le mie amiche. Ho cercato di manipolare mio marito in tutti i modi possibili e immaginabili. Mio marito era già fragile mentalmente. E tutto quello che loro facevano l'ha reso ancora più fragile. Tant'è che una sera prese un'arma a salve e gliela puntò contro mio figlio. Fu una cosa gravissima. Anche perché lui non sapeva che era a salve. E questo ci fece capire che lui ormai era pericoloso. Così chiamai i carabinieri e lo denunciai. Lo portarono a casa della madre e della sorella, dove praticamente lo hanno sequestrato. Non gli fanno prendere più le medicine. Ormai è un uomo spento. Lavora dalla mattina alla sera. Gli hanno tolto il cellulare. Non gli permettono di avere nessun contatto con i figli. Il figlio per il compleanno era andato lì. L'hanno chiamato i carabinieri. Molte persone che purtroppo lo vedono vicini di casa mi chiamano dicendo che hanno pietà per quell'uomo di come si è trasformato, che ormai è diventato un mulo. Lavoratore basta. Non ha più una vita come se fosse una macchina da lavoro e basta. Mi piange il cuore. Ho cercato in tutti i modi di salvarlo, di aiutarlo, ma non ci sono riuscita. Vedete, faccio questo video perché alla fine ognuno si fa i fatti suoi. Siamo a otto chilometri di distanza, ma non riesco a vederlo. Non riesco a salvarlo. E questa cosa mi fa male. Mi fa male perché so che uomo era. E mi chiedo se una madre e una sorella possono essere così meschine per il proprio egoismo da rovinare una persona in questo modo. L'hanno ridotto a essere un'atoma che non ha più sentimenti, non ha più valori, non ha più nessuno con cui parlare, nulla. E pensare che io lo trattavo come un re, lo curavo. ma il mio amore non è bastato contro la cattiveria di quelle persone. Mi piacerebbe pensare che un giorno lui potesse reagire e scappare via di là. Lui ogni tanto alle persone che si avvicinano gli dice portatemi a casa e questo mi fa ancora più male. A volte non ci si rende conto di quanta cattiveria ci circonda fino a che non la troviamo sul nostro cammino. Buona vita.